Attività di workshop, convegni e colloqui di lavoro saranno al centro di Progress, la fiera del lavoro, del sociale e della formazione che si terrà a Lanciano il 7 e l'8 ottobre prossimi, dalle 9 alle 18 con ingresso libero all'interno del polo fieristico della città frentana. A parlarne al Tg8 è Franco Ferrante, presidente di Lanciano Fiera. Alla fine del mio mandato sono orgoglioso di poter presiedere questa fiera del lavoro, è una fiera che non è una fiera commerciale ed è una fiera che raccoglie un po' l'incontro tra le imprese, le agenzie del lavoro, le cooperative, la scuola e i cittadini, il territorio, perché cerca di mettere a contatto le due realtà. Il mondo del lavoro che si incontra con il territorio, con i cittadini, con i giovani, gli studenti, saranno presenti le scuole, istituti specializzati come l'ITS, l'Università di Teramo e quindi la parte produttiva, imprenditoriale e dall'altra parte la parte formativa. Per la parte imprenditoriale, tra le agenzie e le stesse grandi aziende che partecipano, anche colossi internazionali, abbiamo più di 50 stand e diverse scuole che verranno qua. Tra gli obiettivi della manifestazione, quello di favorire la formazione e l'orientamento, nonché l'incontro tra aziende, lavoratori, formatori, selezionatori del personale e studenti, come spiega Orlando Pierantoni, presidente del centro per l'impiego di Lanciano. Credo che siano indispensabili queste iniziative perché collegano gli utenti, collegano tutti coloro che sono a ricerca del lavoro o che vogliono migliorare le loro competenze, le loro capacità e danno l'opportunità di incontro proprio con le aziende, con le agenzie e col mondo della formazione. Ci saranno workshop, laboratori e convegni e ci sarà anche una notevole presenza di studenti delle scuole, specie quelli del quinto anno e siamo felici di questo perché sappiamo di quanto i giovani abbiano bisogno di essere aiutati e guidati nella scelta del loro futuro. Grazie a tutti.